a BCS con Shape of You, abbiamo anche degli ospiti, vado a salutare le bambole che tornano con noi, abbiamo Nicola e Luca, buongiorno e ben trovati. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ecco, li abbiamo venuto più volte a inizio stagione per l'inizio di un percorso, insomma, che è iniziato in questo duemilasedici, duemiladiciassette, un percorso che ha dato grandissime soddisfazioni. Salutiamo anche gli amici del Gabbiano, che sicuramente Gabbiano due, che saranno all'ascolto. Eh beh, tutti, anche perché insomma non vedevano loro, non vedevano loro. Eh. Salutiamo Samantha, la grande Samantha. Ma io speravo venisse Samantha stamattina. Eh, ma non la vediamo. Eh, sarà per strada. Eh, anche perché tra l'altro è distantissimo, il Gabbiano ci si mette una vita arrivare dal Gabbiano. Eh sì, è trafigo, è tutto al posto, il pacchetto. Praticamente a piedi trenta, a piedi trenta secondi, quindi non ha scuse Samantha. Magari è pigra, vuole venire in macchina e fa fatica. Ha ragione, ha ragione. Anche noi abbiamo fatto fatica a trovare il posto. Immagino. Allora senti, è stata un'annata di grandi soddisfazioni, ci sono stati tutta una serie di appuntamenti, erano due al mese, se non ricordo male. Eh, a volte anche tre. Infatti eravamo partiti con un appuntamento fisso mensile, subito ne abbiamo inserito un secondo. Poi un terzo. E addirittura nei mesi clu ne abbiamo aggiunto un terzo. Eravate di casa oramai perché. Sì, perché su quattro venerdini facevamo tre. Era tanta roba. Sì. Mi pare bene. Si mangia bene? Molto bene. Poi la Samantha ci coccora. Ecco. Ci porta il bottiglione di Sambu. Il bottiglione di Sambuca. Perché voi siete dei. Sambucari. 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 Mi sembra giusto. Allora senti, una serie di spettacoli, tutti quanti molto belli. So che quest'anno tra l'altro c'è stato un momento di particolare popolarità con uno spettacolo che è piaciuto molto, quello delle sfumature di nera. Avete un po' cavalcato questo filone. Un po' sexy ma alla vostra maniera, no? Io insomma tutti mi tu potevi fare quello sexy. Tu potevi fare quello sexy. Luca non so francamente. Nicola c'ha qualcosa. Sì. Tu sei più. Non so. Più così. Più tranquillo. Più tranquillo. Sì sì. Più un pantofolaio mi sembra. Più uno da partita della Juventus per dire. Esatto esatto. E lui gli dici Luca al diciotto c'è lo spettacolo basta. Basta. Lui è tranquillo. È a posto. Però dobbiamo ringraziare Luca Vianello perché insomma è stato grazie a lui che ha avuto questa idea. Intuizione. Questa che noi insomma poi assieme lo abbiamo sviluppato ed è stato anche un video tra l'altro cliccatissimo. Eh sì. 50.000 visite. Ecco una però. In 24 ore. Una per ogni sfumatura. Ecco. Andate un po' di più. Cento per ogni sfumatura. Mille per ogni sfumatura. Adesso siamo già a centomila visite. A centomila visite. Però in ventiquattro ore ne ha fatte cinquantamila. Pazzesco. Cioè proprio boom. Veramente una cosa. Davi avete detto quasi quasi però io vi chiedo. Tiene fuori una nuova sfumatura. Dico no. Adesso fanno le sfumature di rosso. da poco in scialcine ma fra qualche mese. Beh. Qualche mese. Poi dovreste giocare un po' d'anticipo secondo me. Di rosso. Beh diciamo che sì beh effettivamente te la dico a sto punto in diretta per te solo perché sei tu. Ecco. Un'esclusiva. 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 Non scuppone. Sì. Stiamo iniziando preparando il continuo di cinquanta sfumature. Non diciamo nient'altro. Luca non dire nient'altro perché basta un pedo e si fa un film. Ecco. E qui di film stiamo parlando. Sì. 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 Però sarà una cosa molto più più elaborata. Molto più più divertente. Ti chiedo una cosa però le tempistiche. Cioè quando lo vediamo dobbiamo aspettare l'autunno oppure? No no. Molto prima noi vorremmo insomma eh far uscire questo video. Prima del caldo. Prima del caldo. Ah beh allora una cosa dopo domani. Ma no non dopo domani però fine giugno insomma primi di luglio al massimo per per dar così inizio alla stagione estiva delle mambole. Una botta alla stagione estiva. Sì. Sì. Bene bene. Una botta sexy. Senti allora questo naturalmente è quello che ci aspettano i prossimi giorni. So che però anche l'estate insomma voi avete fatto un sacco di cose mi dicevi tra l'altro che quest'anno sarete spesso anche in trasferta no? Sì. Beh abbiamo diciamo che venerdì questo chiudiamo la stagione estiva e invernale del gabbiano. Quindi stasera o il prossimo? No al diciannove. Al diciannove. Prossimo. Che giugno è oggi? Ah il venerdì. Prossimo venerdì. Ecco il prossimo venerdì quindi diciannove. No stasera. No stasera no. Stasera no. Il diciannove è la 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 serata conclusiva di questa stagione invernale e e questa estate sì come dicevi avremo tante serate fuori chioggia eh saremo molto spesso l'art club di Desenzano che è una discoteca favolosa bellissima che vi consiglio a tre piste addirittura e o nonostante la la crisi delle discoteche che veramente si fa sentire li lavorano fi cioè mercoledì venerdì e sabato con il pienone. Come si faceva una volta che adesso non lo fa più nessuno. Sì hanno tre piste e riempiono. Mercoledì che andiamo noi è pieno. Pazzesco vedi un po'. E loro si lamentano che non è tanto pieno rispetto al venerdì e sabato ma per noi invece cioè abituati. Dovrebbero farsi un giro da altre parti. Esatto. Infatti infatti. No no è una macchina da guerra. Ringraziamo Madame Sissi che è un personaggio storico e veramente eccezionale e simpaticissima e spero insomma di. Certo. Mi stavo chiedendo vedi le Bambore che comunque è un prodotto che è anche una come dire un imprinting comunque locale. Sì. Però avete come dire creato una sorta di maschera che evidentemente è una lettura anche da altre parti. Si riesce a capire insomma siete leggibili anche da altre latitudini. Eh sì diciamo che comunque siamo un po' meno più giotti come si può dire. Eh giocate più sulla mimica. Sì esatto. Sul testo per dire una forza. Sì la simpatia e sul nostro modo di fare un po' così. E funziona funziona perché lei ci ha visti e. Quindi insomma lo spettacolo è un po' adattato diciamo così. Un po' adattato. A una versione esterna. Sì. Un giotto italianizzato. Eh sì. Ci chiedevano i sottotitoli all'inizio però poi insomma un buon compromesso. Sì sì. Senti tra l'altro so che avete fatto anche una esperienza come dire particolare perché le bambole sono finite in carcere qualche giorno fa e infatti hanno provato anche mia madre. Mi è stata la colpa dei due. No sua sua sua. E lui. Nicola non mettere sta cosa perché il chiugiotto non ha tanta voglia di leggere. Si ferma le prime due righe. Le bambole in carcere. Basta infatti è successo quel che è successo. L'ho formato anche mia madre per strada. Sì sì. Ma cosa è successo? Ma niente. Perché poi questi senza leggere magari le notizie si saranno fatti anche il film. Esatto sì. L'avranno restati per cosa? E non vanno a vedere cosa. Si fermano. Insomma no le prime due righe. Ma mi piaceva questa cosa. Ma mi piaceva perché mi piace scuzzicare. Mi piace. Sì però. Ecco allora siete andati in carcere a fare uno spettacolo. Uno spettacolo di beneficenza per i carcerati. È stata un'esperienza molto forte perché per quanto sia. Entrare dentro un carcere carcere. Sì. Anche perché tutta la documentazione che c'è avuta non eravamo solo noi. Eravamo una decina di artisti. Anche più. Anche più. Sì sì. Ed è stata un'esperienza molto forte perché comunque lì vedevi sta gente che è lì rinchiusa poverina che non vede nulla che che quattro sbarre o sappiamo che le condizioni nelle carcere non è quella ottimale. No. In Italia purtroppo abbiamo molto. Sì la disperazione però hanno questo teatro ci sono delle persone molto disponibili volenterose che aiutano queste persone con dei percorsi teatrali. Per far passare il tempo. Per far passare il tempo. E la cosa particolare è che comunque per la prima volta al mondo c'è stato questo spettacolo di drag queen all'interno di uno di un carcere. Quindi è tutto uno spettacolo di drag queen. Sì sì sì. Un spettacolo intero. Un'ora e mezza si può dire. Sì. Un'ora e veramente bello. Anche le sue ore lì che le pesavamo. Diciamo che ormai è un fenomeno completamente sdoganato no? Sì sì. Non è più come dire non ha più quel senso trasgressivo ma ormai. No 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 infatti la sua ora alla fine ha detto una cosa artisti siete artisti. Sì ma non ricordo bene cosa. Non mi ricordo bene però ci ha fatto un bel complimento. Ci ha fatto un bel complimento. Sì sì. Anche se non ricordi le parole però è rimasto dentro. E che dentro di me ha detto questa bisogna che me la ricorda perché non potevamo portare né cellulari né carte né nulla. Ah sì c'è tutto un mondo. Si hanno sequestrato i cellulari. Si hanno sequestrato tutto perquisiti sì sì sì. Guardato su in mezzo le parrucchie. Qualche lima pettagliare. E' stata un'esperienza allora diciamo anche la perquisizione pensa non è una cosa che tutti possono provare. No 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 infatti anche se venite con un autobus a prenderci su un altro luogo in modo che fossimo tutti compatti che non ci fosse casino anche perché effettivamente per loro c'eravamo a mezzo metro dai carcerati potevano prendermi in ostaggio. Ecco. Questioni di sicurezza. La bella bionda King Kong. Hai fatto colpo con qualche carcerato. Adesso dici la verità Nicola. Sì 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 sì. Vedevo questi occhi languidi. Mi sentivo come una gallinella in mezzo a tanti lupi. È arrivato anche Gino Levantaggi che saluto. Buongiorno. Ciao Gino. Ciao ragazzi. No eh pensavo che c'era un incidente perché prima di venire su qui al bar a Tommy Sbar. Sì. Gente così dico cosa è successo? Tutti che guardano lo schermo BCS come bambole in diretta. Sembrava la finale della Champions League. È incredibile. È incredibile. No c'è Stefano che mi ha mandato mentre che guardavamo Stefano. Loro sanno che Stefano. Sì sì. Non si vede più. Non si vede più. Non si vede più diceva. Eh infatti non c'è. No no è invece io l'ho seguito. Perché è tornato. Andava e veniva. Ah forse aveva problemi di segnare. Problemi tecnici. Vabbè ragazzi andate avanti. Grazie. Abbiamo finito. Abbiamo finito anche perché dobbiamo dare l'appuntamento. Allora venerdì prossimo ragazzi tenetevi liberi. Prenontate già da subito. Esatto. E volevamo dire che quest'estate saremo appunto oltre che a Desenzano. Il tour estivo. Il tour estivo. Perciò tante spiagge. Chioschi. E tante sagre. Perché saremo la sagra di Camponogara. La sagra di Limena. La sagra di Fornaci. La sagra di Ciorza. Fornaci. Siete dei sagraioli. I sagraioli. Beh sì. Insomma dove dove c'è da da mangiare. Quattro costesine. Quattro costesine. Mi coro. Al volo. E poi da ottobre grandissimo nuovo spettacolo. Il Gabbiano saremo fissi da. Riconfermatissimi. Sì 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 sì. Bene. Ragazzi io vi ringrazio. Appuntamento allora venerdì per chiudere la stagione. Poi per tutta l'estate avrete occasione certamente di vederli. Certo. Grazie Nicola. Grazie Luca. Ciao a presto. Ciao Gianni. Ciao a tutti. Grazie.